Entro la fine di febbraio tutti i pazienti cronici della Lombardia riceveranno una lettera con la quale la regione comunica loro il nome del tutor, cioè del medico, che, se accetteranno, li seguirà passo passo nelle cure, gestirà e sceglierà insieme a loro il percorso per il controllo della sua patologia, prenoterà le visite e gli esami necessari. Insomma, si farà carico del suo paziente, che di contro non dovrà più organizzare le visite e gli esami da solo. Una volta ricevuta da lettera, le prime sono partite questo 15 gennaio, il paziente non dovrà far altro che attendere di essere chiamato a sottoscrivere il patto di cura individualizzato, oppure scegliersi un altro tutor o continuare da solo il percorso. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel modo di pensare la sanità per i cronici, che secondo i calcoli di regione Lombardia dovrebbe abbattere le liste d'attesa e rendere meno affollati i pronto soccorso. Pare infatti che nella nostra regione i 3 milioni di cronici, il 30% della popolazione, assorba il 70% delle risorse, ricorrendo spesso ad un utilizzo improprio delle emergenze e delle visite. Per i pazienti cronici si intendono cardiopatici, quelli che soffrono di patologie neurologiche, respiratorie, oncologiche e di diabetici. In queste ore, come detto, è partito il primo step, cioè sono partite le lettere. Per cui i pazienti che sono stati già classificati come cronici riceveranno una proposta di adesione al progetto e loro facoltà scegliere il gestore. Il gestore è la persona che si farà carico della sua malattia cronica, non di tutte le malattie che ha, dalla caviglia, le cose. Vuol dire che ci sarà quindi questa persona che farà un piano di assistenza alla persona proprio individuale per lui, verrà chiamato e gli si dirà toh, devi venire in ospedale, devi fare questo. È un modo completamente diverso di affrontare questi pazienti. Si passa dalla logica push, come si legge nelle porte, spingo per entrare, a una logica pull, ti si apre la porta e ti viene invitato a entrare. In sostanza cambia il modo in cui ci si rapporta col paziente. Anche secondo il direttore sanitario della SST di Vallecamonica si tratta di un modo nuovo di fare sanità. È l'inizio di un modo diverso, innovativo e moderno, assolutamente innovativo, di fare sanità. La Regione Lombardia si è messa in discussione in un momento in cui era forte e si è lanciata in un'operazione anche rischiosa per cercare di essere sempre più adeguata e moderna rispetto alle nuove domande di sanità.